in piano inverno qui Quattroocchi prova a piazzarla con il destro subito Quattroocchi sblocca la gara il numero 99 fa 1-0 per il Monis Pub le mani salvati per Di Lorenzo che scodella bene il pallone per Quattroocchi il colpo di Reni del 99 che firma la propria doppietta personale e va sul 3-1 ai ai sempre Quattroocchi col tiro a giro non si ferma più Quattroocchi, un gol da più lontano rispetto a quello dell'1-0 questo vale il poker per il Monis il 4-1